Sono entrati in un hotel ad Amsterdam e ho trovato una cosa che non mi sarei mai aspettato Ma seriamente? C'è un distributore di pizza automatica Dobbiamo assolutamente provarlo Qua abbiamo tutti quanti i gusti Una margherita a 10,90 euro Io farei questa qua Metà peperoni, metà chicken bbq Ok Try to win a free bottle Sì, sì, dai proviamo, tentiamo la fortuna Dai, dai, dai No Ma non è tipo messa dopo questa pizza? Sì, è una collaborazione Sembra tutta con grafiche diverse Questa è una grafica, questa è una grafica diversa Quella è un'altra Si sente il profumo della pizza Lo senti? Da qua sopra Oh, senti? Are you here for pizza? Yeah We must do the Italian check quality You let us now Yeah 3, 2, 1 Oh C'è una piastra di metallo sottostionante Ok, alla vista Particolare Già tagliata, questo ottimo Meno male perché non so come fai a mangiartela